Signor Collegui, 2021 non era un anno facile e ora stiamo facevamo il 2022 con la speranza di che qualcosa di meglio avrà. Penso che dovremmo essere optimisti, anche se i nostri ultimi due anni non erano così buoni. Penso che la nostra professiona era in danger in questi due anni, perché molti di noi avevamo perduto il lavoro, perché non c'erano possibilità di entrare in stadio, non c'erano possibilità di sviluppare le nostre skill. incontrere le persone, e questo è qualcosa che deve essere ristorato. Dobbiamo proteggere la nostra independenza dal coronavirus, che è anche dentro di alcuni uffici sport, che preferano avere una scuola e non un giornalista reale. Penso che la nostra combina sarà più difficile da prima, ma sono optimistico, perché penso che tutti voi vogliono vogliono combattere, per proteggere la sua professiona e anche la sua credibilità. Abbiamo anche parlato molto tempo contro le notizie falsche. E stiamo cercando di vincere questa combina, se investiamo nella cultura. Questo anno del sport, nel 2022, avremo due grandi eventi. gli Olimpici in Beijing per il sport dell'inverno, e il World Cup in Doha. Uno al principio del anno, il secondo al fine. A riguardo a Beijing, stiamo ascoltando, a volte, una parola di potenza, un boicot politico. Penso che il boicot non sia più utile. Lo abbiamo visto nel 1980 e nel 1984. Significa solo che una generazione di atleti, nel caso del boicot, perderanno la possibilità di avere un futuro migliore. E per questo motivo, è meglio evitare questa situazione. Per il resto, dobbiamo ricordare che il sport è qualcosa che aiuta le persone a stare insieme, che aiuta la nuova generazione a sapere un futuro migliore. Ricordatevi, il sport è una cultura e anche la nostra professiona è una cultura. E noi dobbiamo difendere questo, perché ci sono molti iniziati. Ci sono il doping, il fixamento, ci sono cose che vogliono distruggere le nostre possibilità per creare un futuro migliore per tutti. Perché il sport è un elemento importante per cambiare la società. E credo che noi dobbiamo seguire questo passaggio. Quindi, buongiorno il 22. E noi stiamo insieme, ancora, anche nel nostro congress, in person, non solo in video. . 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